La nuova frontiera della videoregistrazione è hands-free ed è per questo che vi diamo il benvenuto all'IFA di Berlino, allo stand Panasonic, nel corner dedicato a questa tipologia di videocamere. Il segmento delle videocamere indossabili sta dando una rinnovata energia al mercato delle videocamere tradizionali. Pensate che solamente negli ultimi mesi estivi, rispetto all'anno 2013 le vendite di questo prodotto sono raddoppiate. Panasonic ovviamente compete, si distingue per l'offerta al pubblico di un prodotto di eccellenza. A500 è l'unica videocamera al mondo capace di riprendere in 4K a 25 frame al secondo ed è l'unica per questa categoria di videocamere indossabili. A500 è una videocamera pensata sia per coloro che si vogliono cimentare in attività outdoor perché è un prodotto molto resistente, resistente all'acqua fino a 3 metri, sia per coloro che intendano registrare ad altissima qualità appunto con la comodità di essere a mani libere, quindi è il caso delle blogger di cucina, degli artigiani o degli artisti in genere che desiderino riprendere ad altissima qualità la propria attività. È anche dotata di una praticissima funzione livella che automaticamente aggiusta e raddrizza l'inclinazione dell'immagine riallineandola all'asse orizzontale per garantire un prodotto finito poi dal look veramente professionale. A500 in termini qualitativi come vi dicevo offre filmati alla risoluzione 4 volte pari a quella del tradizionale Full HD, riprende a 25 frame per secondo quindi garantisce una fluidità dell'immagine in rapido movimento veramente molto piacevole e inoltre grazie al processore Crystal Engine Plus con Backside Illumination garantisce un'altissima nitidezza anche delle immagini riprese in condizioni di scarsa illuminazione. In termini di connettività poi sarà semplicissimo condividere i vostri filmati grazie alla tecnologia Near Field Communication grazie alla quale basta accostare la vostra A500 a un dispositivo compatibile NFC per trasmettere il filmato in un soltocco. Non mi resta quindi che augurarvi di esprimere la vostra creatività in libertà con A500 e ovviamente alla splendida entusiasmante risoluzione 4K.